Bene signori bentornati ancora una volta sul mio canale per la seconda parte spero tanto attesa nel video su bonus casa e eco bonus ovvero le detrazioni fiscali che riguardano i nostri edifici e i loro impianti. Prima di partire con la seconda parte vi consiglio caldamente se non lo avete già fatto di stoppare questo video e andare a vedere la prima parte che vi lascio in descrizione. Sia questa che la prima parte hanno il relativo articolo sul mio blog che vi lascio sempre in descrizione. Cercherò in questa seconda parte di fare una veloce carrellata sui tipi di interventi relativi alla detrazione eco bonus e quelli relativi alla detrazione bonus casa senza entrare troppo nel dettaglio anche perché penso che la cosa non abbia nemmeno molto senso. Inoltre cercheremo di vedere alcune cose differenti e alcune cose analoghe tra una detrazione e l'altra. L'obiettivo di queste introduzioni di queste prime parti è quello di arrivare ad avere le giuste premesse per poter affrontare in altri video e altri articoli alcuni singoli specifici argomenti che riguardano domande che molto di frequente mi vengono poste e che anche molto spesso leggo in rete. Quindi riassumendo velocemente abbiamo visto che la finanziaria di dominamenti ha prorogato le detrazioni eco bonus e bonus casa ed eravamo arrivati appunto a dire chiamiamo le cose con il loro nome. Quindi 50% ristrutturazione edilizia bonus casa 50% o 65% addirittura vedremo 70% 75% riqualificazione energetica eco bonus. Qui a video l'immagine che avevamo visto e che trovate nell'articolo. La prima raccomandazione riguarda i bonifici da utilizzare. Al di là di quanto riportato nelle relative guide dell'agenzia delle entrate che trovate nella prima parte del mio video nel relativo articolo la cosa più semplice è quella di utilizzare i bonifici che praticamente ormai visto che le detrazioni esistono da tanti anni hanno pronte tutte le banche. Quindi si dice semplicemente devo fare bonifico ristrutturazione edilizia o devo fare bonifico riqualificazione energetica. Bonus casa eco bonus sempre lì e non ci si sbaglia. Un'altra cosa importante che spesso viene omessa ai clienti finali da chi diciamo così ha l'unico obiettivo di vendere è quella che stiamo parlando di detrazioni fiscali. Detrazioni ovvero una persona o una partita IVA detrae entro il limite della sua capienza fiscale deve avere delle tasse da pagare la detrazione vuol dire non pago quindi detrago delle tasse che avrei dovuto pagare se non ho di tasse da pagare non detrago nulla. Il concetto è questo nell'articolo lo troverete scritto con parole un po' più tecniche. Il consiglio come ho già detto in tanti altri video è appunto quello di coinvolgere in queste circostanze oltre a un tecnico per gli aspetti tecnici anche il commercialista per gli aspetti fiscali. Quindi un giro dal commercialista per capire se io persona fisica o io società partita IVA posso meno usufruire e sfruttare le detrazioni è necessario farlo per capire se ho delle tasse da pagare da detrarre. Partiamo adesso con alcune differenze quindi bonus casa vale per gli edifici residenziali di qualsiasi categoria catastale anche rurali e sulle loro pertinenze quindi riguarda i privati persone fisiche. Ecobonus invece è una detrazione fiscale dell'IRPEF o dell'IRES valevole per interventi di efficientamento energetico sugli edifici quindi possono accedere all'eco bonus sia privati che le imprese per edifici di qualunque categoria catastale anche produttivi commerciali quindi una platea più ampia rispetto al bonus casa. Bene ora adesso con l'aiuto di una tabella che vi ho preparato e che trovate nell'articolo e che vi farò a vedere per qualche istante anche qui a video introduciamo le tipologie di intervento del bonus casa. Partiamo da quelle principali ovvero ricordiamoci che l'intervento che stiamo facendo presso il nostro immobile dovrà essere inquadrato urbanisticamente da un tecnico geometra ingegnere architetto per definire a essenza del dpr 380 nazionale che tipologia di intervento è e di conseguenza che eventuale titolo autorizzativo comunale serva per quell'intervento questo come sempre a prescindere da qualunque tipologia di incentivo o agevolazione si voglia fare. Quindi per le singole unità immobiliari si possono detrarre la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia ovvero dalla manutenzione straordinaria in su nel senso che gli interventi sono divisi tra manutenzione ordinaria più piccoli meno lavori alla manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia quindi a salire. Dalla manutenzione straordinaria in su posso detrarre bonus casa 50% sulla singola unità immobiliare. Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici è detraibile anche la manutenzione ordinaria. Oltre a questi interventi che sono poi quelli più conosciuti la stessa ristrutturazione edilizia all'interno delle altre lettere degli altri punti che riguardano per esempio il sisma bonus, le barriere architettoniche, gli impianti di allarme e di videosorveglianza diciamo così per prevenire il rischio di atti illeciti, la cablatura degli edifici e le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico, la bonifica dell'amianto e ricordatevelo bene guardate che nella tabellina è evidenziata in giallo la famosa o meglio non tanto famosa lettera H interventi di risparmio energetico, interventi che possono essere fatti e detratti anche se non ci sono opere, murari edilizie da fare per capirci la lettra sotto cui passa la detrazione bonus casa 50% degli impianti fotovoltaici. Questa ricordatevela perché poi sarà oggetto di ulteriori argomenti e video. Passiamo quindi a parlare di ecobonus dove le eventuali possono essere 50, 65, 70, 75, 80, 85% di detrazione. Quando è nato l'ecobonus nel 2007 gli interventi erano definiti dal comma 344, 345, 346, 347 della finanziaria ed erano riqualificazione generale energetica dell'edificio, gli interventi sull'involcro, solare termico e interventi sugli impianti, caldaia, pompa di calore. Con l'andare degli anni sono state modificate, inserite cose nuove, modificate percentuali, semplificate alcune tipologie di pratiche rispetto ad altre. La sintesi di tutto questo è un'altra tabella che vi riporto nella quale in base al tipo di intervento c'è la relativa percentuale di detrazione. Fate principalmente attenzione a quelle in rosso, ovvero sistemi schermanti infissi, caldaia biomassa, caldaia condensazione in classe A, sono il 50%. Poi c'è la riqualificazione globale, la caldaia condensazione in classe A più la regolazione evoluta, generatori d'aria calda sempre a condensazione, le pompe di calore, riscaldacqua pompa di calore, l'acquibentazione delle strutture opache, solare termico, i sistemi ibridi, sistemi di microcogenerazione, i sistemi di building automation che sono a 60%. Poi esistono le detrazioni co-bonus sulle parti comuni dei condomini, quando si supera il 25% della superficie disperdente, si supera nel senso che si va a isolare più del 25%, che è il 70%, che può passare al 75% sotto determinate condizioni e può salire, e qui passiamo al sisma bonus di cui io non mi occupo direttamente, che può arrivare all'80% all'85%. Un'altra importante differenza tra bonus casa e eco-bonus sono anche i massimali di spesa e di detrazione. Per quanto riguarda il bonus casa è riconosciuto un massimale di spesa di 96.000 euro IVA inclusa, per cui la montata della detrazione è 48.000 euro in 10 anni. Si possono poi aggiungere il bonus mobile ed elettrodomestici. Per quanto riguarda l'eco-bonus invece, la montata della detrazione va da 30.000 a 60.000 per 120% fino ai 100.000 della riqualificazione globale, sempre in 10 anni. Discorso a parte va poi fatto per la parte di detrazioni riguardanti le parti comuni, che invece ha ancora degli altri limiti di 40.000 euro per unità immobiliare. In quest'altra tabellina, che trovate sempre nell'articolo che vi faccio vedere un attimo qua, trovate appunto intervento per intervento, limite massimo di detrazione e relativo limite massimo di spesa. Perché se dico che per la riqualificazione energetica globale il limite di detrazione massimo è 100.000 euro, vuol dire che io posso spendere, tra virgolette, 153.846 euro, perché 100.000 è il 65% di questa cifra e così via per tutti gli altri interventi. Restando sempre su questi massimali, per una riqualificazione globale, il cui limite abbiamo visto essere 100.000 euro, se effettuata su un condominio, per esempio, questo massimale va riferito all'intero condominio e non alle singole unità immobiliari. Questi 100.000 euro quindi vanno distribuiti, divisi, tra le n unità immobiliari che compongono l'edificio e che portano in detrazione l'intervento. Per quanto riguarda gli interventi su parti comuni del 70-75%, invece il massimale è un tetto massimo di spesa ed è pari a 40.000 euro per ogni unità immobiliare, quindi 40.000 per n unità immobiliari. Nell'articolo vi riporto anche una facchenea, la 2 e la ex fac 15, che appunto va a specificare questo discorso sui massimali. Un argomento prettamente, diciamo, fiscale ma a cui devo per forza accennare è il discorso della differenza tra principio di cassa e principio di competenza. Capita spesso che i lavori appunto vanno a cavallo di più anni e magari a cavallo di questi anni, come è successo più volte, la percentuale di detrazione è stata anche cambiata dal 55 passato al 65, dal 65 passato al 50 eccetera eccetera. Quindi quando questo accade, per le persone fisiche, compresi gli esercenti, arti e professioni e gli enti non commerciali, fanno fede alle date del pagamento, ovvero principio di cassa. Per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali, fanno fede alle date delle fatture, principio di competenza. Anche le detrazioni stesse seguono il principio di cassa o il principio di competenza a cui si deve attenere un determinato soggetto. Quindi le persone fisiche, tutti i soggetti che devono seguire il principio di cassa, il periodo di imposta coincide con l'anno solare e possono portare in detrazione le spese a partire dalla dichiarazione dei redditi del relativo anno in cui hanno effettuato il bonifico. Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale invece, per cui vale il principio di competenza e quindi il periodo di imposta può non coincidere con l'anno solare, fanno invece riferimento i dati delle fatture e non le date dei pagamenti. Per riassumere, ricordandovi sempre di rivolgervi al vostro consulente fiscale che sia commercialista o CAF, chi segue il principio di cassa deve per forza utilizzare l'apposito bonifico di cui ho parlato all'inizio, mentre chi segue il principio di competenza può anche pagare senza l'utilizzo del relativo bonifico parlante. Bene, per questa seconda parte vorrei concludere qui. Come per la prima parte riassumiamo i concetti che mi interessano e che sono importanti per poi capire i prossimi argomenti, quindi ecobonus e bonus casa, ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, edifici solo residenziali, principio di cassa, edifici residenziali e non, anche commerciali perché anche le partite IVA possono detrarre, quindi anche principio di competenza, quindi chi ha principio di cassa sempre bonifico, chi ha principio di competenza anche senza bonifico. Rivolgiamoci sempre sia a un consulente tecnico per inquadrare l'intervento, sia a un consulente fiscale per la parte fiscale e se avete fatto caso vi siete già accorti che alcuni tipi di intervento possono essere detratti, specialmente per le persone fisiche, in edifici residenziali, a pari percentuale, sia con una detrazione sia per l'altra. È un'assurdità tutta italiana ma così è. Avete visto che ho del 50% per esempio per una caldaia o per gli infissi, 50% sia da una parte che dall'altra, bonus casa ecobonus. Quindi tra i prossimi video sicuramente ci sarà quello che riguarda la detrazione di una sostituzione di generatori di calore con caldaia e condensazione, come posso detrarre in un modo, come posso detrarre in un altro, idem per la sostituzione o installazione di generatori a biomassa, un focus sugli interventi di risparmio energetico relativi al bonus casa che posso garantirvi che è una cosa abbastanza contorta perché parte da un decreto del 92 arrivando fino ad oggi. Un altro video parlerà della necessità o meno di titoli abilitativi e del fatto che non sempre le definizioni urbanistiche che ho richiamato prima del DPR 380 coincidano con quelle utilizzate ai fini fiscali dall'agenzia delle entrate. E un altro video sicuramente sarà quello sul condominio dei minimi, ovvero l'accenno condomini fino a 8 unità immobiliari senza codice fiscale e senza amministratore, sia ai fini legali che ai fini proprio delle detrazioni stesse. Ovviamente sono ben accetti altri suggerimenti ma in questa serie di video sicuramente si vanno a coprire alcune delle classiche domande che mi vengono rivolte. Questa volta siamo proprio alla fine, vi ringrazio, vi chiedo di mettere un like se il video vi è piaciuto, commentate sotto su youtube o anche sul mio sito, iscrivetevi ai miei social facebook linkedin, quelle che più utilizzate e ci vediamo alla prossima e restate in casa mi raccomando!